Tre aggettivi per questo corso sono chiaro, stimolante e intenso. Apporta elementi pratici e casi di studio internazionali e anche da parte della classe per quello che è appunto un piano di sviluppo del pubblico. Mi ha aiutato a migliorare le mie capacità di una visione globale di quello che è un piano di audience development stimolando la riflessione su alcuni aspetti che prima avevo nella mia mente senza però avere una base utile per la ricerca e lo sviluppo di queste azioni. Sicuramente a casa porteremo un grande bagaglio soprattutto rispetto alle strategie che si devono effettuare a proposito di una analisi o comunque di una ricerca dei pubblici. Dal corso di Melting Pro sicuramente si evince la capacità del personale, degli operatori comunque di passare questo messaggio, passare il messaggio chiave e il loro modo di condurre è molto innovativo in quanto comunque cerca di stimolare tutti e anche di unire tutti quelli che hanno fatto il corso in un unico grande discorso pieno però di idee. Grazie.